Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con cronache e commenti, il consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Anche per questa puntata della seconda metà di giugno andiamo a vedere subito gli argomenti che caratterizzeranno questo quarto d'ora insieme andando a conoscere il dibattito in consiglio regionale. Nuovi termini per l'affidamento degli impianti sportivi in Toscana, approvata la nuova legge. Come è stato approvato anche il rendiconto finanziario della regione per il 2023. Incontro con la RSU della GKN di Campi Bisenzio con il presidente del consiglio regionale. Presentato il libro Metà Giardino e Metà Galera che parla della storia delle carceri dal dopoguerra. La regione ha aggiornato il regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi. Un testo approvato all'unanimità dal Parlamento Toscano che prevede che l'affidamento degli impianti avvenga in via preferenziale a società e associazioni sportive nazionali per le quali si tenga conto della storicità sul territorio ma anche del numero dei tesserati soprattutto considerati quelli del settore giovanile. Nei nuovi criteri si terrà conto anche della manutenzione degli impianti sportivi ma anche delle tariffe applicate e della presenza di figure qualificate e professionali all'interno degli staff. Cambiano i criteri, cambiano alcuni principi, è un lavoro che è stato fatto in commissione a partire da una proposta mia e del consigliere Stella su cui abbiamo lavorato anche come PD ma anche con altri gruppi politici. È stato un lavoro che ha portato un risultato significativo, un'animità, segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni, negli enti locali nelle condizioni di lavorare meglio. Lavorando sui criteri, inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge a partire dall'ostrocità sul territorio, sull'impianto, la valorizzazione dei settori giovanili, degli staff, si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio, gli impianti sportivi. Un pezzo assolutamente fondamentale nella crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e di tutto il tessuto sociale che caratterizza e alimenta le nostre comunità. Gli impianti sportivi, questa legge regola la modalità di concessione degli impianti sportivi ma noi pensiamo che sugli impianti sportivi vada fatto un lavoro differente. Noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi, quei pochi sono tenuti male, a volte malissimo, non è mai stata fatta una programmazione, nemmeno un'attività comprensoriale per cui nei comuni più piccoli a due chilometri di distanza uno dall'altro troviamo gli stessi impianti ripetuti, entrambi fatiscenti, anziché invece trovarne uno solo tenuto bene. Noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze, verso le cattive pratiche. Per poter far sport ci vogliono impianti sportivi, ce ne sono pochi, tenuti male e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come siano stati dati in concessione, tra l'altro sempre ai soliti. Pensiamo che ci sia un grande tema, che sia quello degli stadi delle grandi città, delle città capoluoghi che sono utilizzate una volta ogni due settimane. Noi pensiamo che si possano utilizzare anche per le squadre minori, per fare la finale del campionato, per giocare una volta un torneo nello stadio e avere quindi quel tipo di soddisfazione. Sono spazi pubblici, di proprietà pubblica che vengono gestiti soltanto da alcuni come se fossero degli spazi privati. Quindi c'è un grande tema, su questo grande tema che è fondamentale per la salute, per i giovani ci manca un assessore. In Toscana non c'è l'assessore allo sport, la delega allo sport l'ha mantenuta il Presidente Gianni che contemporaneamente è assessore alla cultura, assessore al bilancio, commissario a Piombino, commissario nel Mugello, commissario nella Piana Fiorentina, più tutta un'altra serie di cose oltre a fare il Presidente di Regione. Evidentemente non ha il tempo, la testa per poter fare il Presidente di Regione e l'assessore allo sport. Contemporaneamente non c'è una programmazione, non c'è un fabbisogno, si va a pioggia. In qua e là, ma non pensiamo che sia il modo migliore per affrontare una tematica fondamentale e prioritaria come quella dello sport. Approvato durante l'ultimo Consiglio regionale che si è riunito lo scorso 12 giugno il rendiconto per l'esercizio finanziario del Consiglio per il 2023. A fronte di previsioni iniziali di entrate e di uscite stimate in 31 milioni e 439 mila euro, ci sono state variazioni in aumento sia di entrate che di uscite di oltre 7 milioni e 846 mila euro, determinando dunque un ammontare delle previsioni definitive di oltre 39 milioni e 286 mila euro. Il bilancio totale ha visto un avanzo di amministrazione nel 2023 di 7 milioni e 283 mila euro. I numerici parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace. Ciò è dato dagli aspetti di bilancio contabile in senso più stretto, però anche il fatto che il rendiconto consegni al Consiglio regionale in questo esercizio 1 milione e 700 mila euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spesa di investimento che per spese correnti, ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente in quanto così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024. Così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle allumioni e da eventi calamitosi. Ecco, quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità, noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. Non credo che questo possa essere considerato come malagestione. Ecco, io ho la discussione sul fatto di definire un fondo, come viene detto, un fondo leggi, è una discussione che legittimamente può essere fatta e credo che su questo si possa trovare anche un terreno di condivisione. È chiaro che poi, così come si condivide il fatto dell'istituzione di questo fondo, è inevitabile che poi ci sia anche la condivisione sull'oggetto delle proposte di legge. Il gruppo della Lega ha votato contrario al rendiconto del Consiglio regionale, mettendo in evidenza alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Il primo è quello che ci sono continui avanzi liberi, ormai da parecchi anni, che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro sotto questo profilo abbiamo evidenziato la necessità che avevamo richiesto già da tempo di una dotazione per le proposte di legge e di iniziativa del Consiglio regionale, di risorse economiche da questo punto di vista, che invece non trovano ancora soluzione tra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescano nemmeno a spendere le risorse, abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario. Durante l'ultima settimana il Presidente del Consiglio regionale ha accolto una rappresentanza dell'RSU della GKN di Campi Bisenzio. Durante l'incontro il Presidente ha chiesto lo stop dello sciopero della fame indetto dai lavoratori. Sciopero poi stoppato dopo 13 giorni a seguito della promessa del Presidente del Consiglio di portare in Consiglio regionale la proposta di legge per la reindustrializzazione del sito produttivo. La proposta prevede la possibilità di istituire un consorzio regionale pubblico che possa essere costituito anche dai lavoratori con l'obiettivo di far ritornare il lavoro nell'azienda e di iniziare il processo di transizione ecologica della produzione. Intanto ho portato la vicinanza di tutta la conferenza dei capigruppo. L'impegno di aver calendarizzato in seconda commissione la proposta di legge che la collega Noferi ha presentato. Ora abbiamo una serie di passi da fare. Il primo trovare l'eventuale copertura di spesa perché senza una copertura di spesa quella norma non può andare in aula. Poi fare tutte le audizioni nel tempo più veloce possibile per cercare di capire la fattibilità tecnico-giuridica della norma. Gli uffici ci hanno detto con chiarezza che questa norma può andare avanti. Va vista nei dettagli alcune articolazioni su come strutturarla meglio. Insomma, l'impegno è quello di far procedere il più velocemente possibile l'iter d'aula. Io penso che una norma di questo tipo, seppur rivista, sia importante in un tempo come questo in cui è necessario mettere in campo politiche di reindustrializzazione e penso che noi dovremmo perseguirla con forza. Infine ho fatto un invito alle lavoratrici e ai lavoratori dell'ex CKN. Sospendete lo sciopero della fame. Sospendetelo subito e noi faremo la nostra parte, ma in gioco c'è anche la vostra salute. Durante l'ultima settimana presso il Palazzo della Regione, nella Sala Fanfani, è stato presentato il libro Metà Giardino e Metà Galera. Il titolo, ispirato al celebre brano di De Gregori, Viva l'Italia, ripercorre la storia dell'istituzione carceraria dal secondo dopoguerra ad oggi, seguendo il filo delle canzoni di grandi cantautori come appunto De Gregori, ma anche De Andrè, Gaber, Vecchioni, Dalla e Silvestri. Un intreccio di immagini e racconti che esplorano il tema della detenzione e dipingono nelle loro canzoni quadri di attesa, tempo, innocenza e colpa. La racconta nella storia, attraverso la storia, dal dopoguerra fino ad oggi, con una profondità ed una analisi compiuta dei testi veramente rara. Sono canzoni che tutti conosciamo, che tutti abbiamo sentito, ma delle quali pochissimi abbiamo compreso fino in fondo la profondità, se non la si analizza attraverso lo studio dei testi. Il merito maggiore di questo libro è questo qui, di avere ripercorso la storia di anni terribili per l'Italia e anche di anni terribili per il carcere attraverso le musiche che al carcere fanno riferimento. Allora, l'idea è nata sicuramente dal lavoro che svolgiamo. Io appunto come funzionario giuridico pedagogico e l'altro autore come ispettore superiore di polizia penitenziaria. Il lavoro, unito alla grandissima passione per la musica italiana e alla voglia di continuare appunto a parlare di carcere, a far conoscere il carcere e quella che è la sua realtà attraverso uno strumento universale e trasversale come quello della musica. Il libro ripercorre la storia dell'istituzione penitenziaria a partire dalla metà degli anni 50 fino ad arrivare ai nostri giorni e sono tutte canzoni di un'estrema attualità perché ogni canzone in realtà affronta una tematica particolare. Abbiamo le canzoni appunto dedicate al tema del purtroppo attualissimo dei suicidi in carcere ma anche al tema dell'affettività, della sessualità, dei minori, dell'uomo che esce dal carcere. Quindi veramente tocca a 360 gradi tutto quello che può essere considerato l'universo penitenziario. Il libro fotografa con tutte le sue contraddizioni la storia di questo paese dalla fine degli anni 50 arriva ad oggi perché se pensiamo che si chiude ma non si chiude perché è una storia che va avanti con tutte le sue sfaccettature positive e negative con Mare fuori, la sigla di quella fortunata serie tv. Percorre appunto la storia di questo paese che è una storia per molti aspetti difficile sicuramente da indagare. Prendiamo quindi spunto da questo simoro, metà giardino, metà galera, rifacendoci a quella bellissima canzone di Francesco De Gregori che è Viva l'Italia. Ci è sembrato lo simoro e la frase più giusta per una canzone importante, per un testo piccolo nel suo complesso ma significativo che ripercorre appunto la storia di questo paese attraverso le sue carceri. È tutto da cronache e commenti, l'appuntamento è come sempre ogni settimana con i commenti, il dibattito e anche le delibere del Consiglio regionale che vi andremo a raccontare attraverso le nostre telecamere. Grazie.